Vai, 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 sì, 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 oh mio Dio, vai, vai, sì, 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 ragazzi, ma avete visto questi tifosi, sono completamente impazziti, se appena fanno gol fanno sì, comunque bentornati su mini football ragazzi, nello scorso video, se ve lo siete persi, andatelo ovviamente a rivedere, perché abbiamo potenziato Messi raga, cioè guardate la nostra squadra, 713, Mi avete dato un sacco di consigli super utili, mamma mia, che presto magari leggeremo tutti insieme e magari pian piano potrei fare una nuova tattica, come sempre fatemi sapere se avete trovato qualche giocatore nuovo incredibile in questa settimana Allora, il pass a breve si sarà nuovo, ho preso tutto qua, ho preso tutto, non è che ho lasciato qualcosina, eh, e comunque raga, io devo fare due cose, devo continuare a prendere corone per salire, perché non sono nemmeno primo per ora, devo tornare assolutamente in Lega Gold Cioè raga, ma ci arriveremo mai in All Stars? Ciao E poi raga, hanno finalmente messo l'Elite Stars League, iscriviti entro un giorno e 5 ore, io mi posso iscrivere anche se non ho raggiunto abbastanza coppe? E hanno, cos'è? 1v1, torneo, ah, dove posso prenderle, ok, va bene, no, voglio tornare dove ero prima Allora, l'iscrizione costa 92, 92 gemme, ovviamente le ricompense sono leggendarie, cassa ultra, cassa mega, fammi vedere Ecco qua raga, io devo rigiocare a questo torneo, la cosa brutta è che c'è per solo tipo un giorno e devi fare una marea di partite Magari ci facciamo un video, che ne so, di mezz'ora, un'ora, dove facciamo solo partite di mini football, ok? Quindi queste sono tutte le ricompense, cioè guardate Elite Legends League, una mitica addirittura, cioè per una, un po' poco, eh Ok, iscriviamosi raga, vediamo, riscatta ricompensa per due di pacchettini, quindi vai, nulla e nulla Quindi ci siamo? Raga ci siamo! Ma ci siamo già! Possiamo già giocare! Ah ma termina fra un giorno e 9 ore Quindi non era l'iscrizione, quindi raga ci siamo già, ci siamo, sono contro Ali, Mauro, Luis, contro questi I premi della partita devo fare, cosa devo fare? 20 partite? Raga giochiamo, difficoltà partita successiva, difficile Partite rimaste 20, io direi di cominciare, e se non l'avete fatto, un super mi piace a questo video Raga, iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche, per me è super importante che facciate queste cose per supportare il canale Preparati una partita difficoltà difficile, prima di scendere in campo potresti potenziare la tua squadra per avere maggiori possibilità di vittoria No! Io sono pronto! Gioca! Saranno delle belve raga, se mi ha detto questa cosa 862! Un cavallo, argomale! Raga dai, ma di cosa stiamo parlando? Italy, let's go! Vediamo! United Kingdom, portiere è una bestia, attacco 60... Ah vabbè raga, portiere 84, cioè addirittura questo ha il logo dei clown, ti faccio vedere io clown Ok, dobbiamo cercare di fare più partite possibili per avere un sacco di bei punti raga Vieni qui, vieni qui, sì, let's go, let's go Diego dovevi passarla! Oh mio dio! What? Fallo! Finalmente! Ma tanto io non so battere raga i calci di punizione Zallo, sì, buttalo già fuori In dieci voglio che rimane Attenzione The dribble The dribble Non era male! Forse ho imparato un pochettino a tirare i calci di punizione raga eh Attenzione Eh ma non ce la fai a fare gol da lì ciccio Cioè questo qui è un portiere da 84 era Ciao! Dai Messi, dai Messi, fatti vedere Nooo! È rimasto lì, è stato furbo il difensore raga eh È stato molto furbo Si numero Si guarda il fenomeno A chi? A chi? Dai Diego Nooo! Fallazzi! Buttalo fuori Dai, 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 dai Eh! Eh! Ah, ovviamente io fallo e mi dà anche già la numero Pfff, follia raga, follia Vai, 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 vai No? Oh! Mamma mia che nervoso raga Che nervoso Dai Messi, dai Messi, dai Messi, dai Messi, sì, sì, sì Sium Messi Sium Farone 1-0 contro Philippe Più di 820 raga questo Io 710 Tanta roba Siamo delle bestie, siamo No, 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 no Vado a tirare Si ha tirato una mina e non si è nemmeno visto Pereira una mina raga Non l'ho nemmeno vista io con i miei Guardate che roba Boom Ice wall Cioè mancava un secondo la fine Cioè io potrò avere più sfortuna di così raga Cioè io non ho parole, veramente Sì, sì, sì Sì, 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 mamma mia Mamma mia Che scotenna Poi Numero Rigore Ma dammi rigore Stramaledetto arbitro Venduto di un arbitro Dai, 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 dai Ma cosa ci faceva a numerla? Ma raga avete visto dove andava? A pascolare Vai Diego, vai Diego In mezzo Era messo male Mamma mia Cosa ho combinato? Sto portiere raga è forte No, Leo Leon Messi Cosa fai? Guardalo, guardalo Guardalo Non va nessuno contro di noi Palo ancora Sì Giusto così Giusto così raga Giusto così Dobbiamo tenere Dobbiamo tenere che è importante Sì, bravi, bravi Melina raga Io direi una bella melina Che se lo merita sto qui Per essere livello così alto Contro di noi che non è giusto Una bella melina Ah È quello che c'è Sì, sì, fischiate Fischiate Non mi importa di niente Ottantacinquesimo raga Devo tenere Devo tenere Vieni, vieni qui Vieni qui a prenderla ciccio Vieni, vieni, vieni Ok, adesso mi fa gol raga Dai che è finita Dai che è finita Dai che è finita Tira la via Yes 2-1 Easy Ti sta bene Un tiro un gol Fai, sei vergognoso 867 E dico tutto raga Allora Siamo saliti di uno Quindi siamo sesti Per ora per 10 di carte Ah, questo è quello Vediamo No, non c'entra niente questo Per 10 sono le carte epiche No, quelle sono Le carte rare, le viola Dovrebbero essere Un pacchettino gold Quindi ho vinto una partita Va bene, continuiamo 1 su 20 Quindi devo vincere 20 partite Forse E se ne perdo una Ovviamente Non me la conta Giochiamo raga, vai Vediamo chi è il prossimo Sarà una bestia Saranno tutti fortissimi, eh 746, Davide Si sta che si è appena laureato Complimenti, Davide Poland A Messi 84, raga Messi è un portiere da 70 Cioè, una bestia raga Come fa ad essere così basso? Io non lo so, eh Di livello Vediamo Oh, non mi lascia Non vedo spazi raga, eh Dai, 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 dai Sium, Messi, Sium Invece no, eh Guardalo, guardalo Il gladiatore Il gladiatore Boom Ha scherzato la traversa Oh, io non si posso credere In stisorni Becco solo pali Traverse Ottimo, raga Grazie, mini football Mamma mia Che rinvio brutto Che rinvio brutto Ma ovviamente io Me lo lascio scappare Bravissimo, Diego Vai, raga Yes Guarda il gladiatore Che è lì nel mezzo Portiere, raga Mamma mia Sempre un fenomeno Contro di me Oh, mio Dio Vai Cosa sta succedendo Qua in mezzo, raga Ma, ma Ma che roba è C'è un fenomeno Sto portiere, raga Dai Quanto c'è Sì Sì Sì, raga Sì, sì Sì, sì Sì 1-0 1-0 1-0 Gladiatore Passa il gladiatore Da sole, da sole, da sole Silenzio Let's go S'ha rinunciato, raga S'ha rinunciato Messi Mamma mia Era 3-0 Guardate Ma che passaggi orribili Messi, 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 Messi Non lo posso Oh, mio Dio Raga, ma avete visto che tiro Ha fatto Messi Palo Addirittura Papera del portiere Gol Folia, raga 3-0 Fischi arbitro Ma perché me l'ha rinviata da solo? Ma perché? Oh, gioco Cosa Cosa vorreste dire? Sì, il primo tempo È muto Mamma mia Mamma mia Non vengono contro Non vengono Quasi l'incroso dei pali, raga Lo sto triturando Mamma mia, raga Che giocatore Ma avete visto che gol? Avete visto che dribbling? Mamma mia Lasciamo perdere What? Mamma mia Ok, ok Volevo fare la melina Ma ho combinato un disastro Dai, fischia Fischia arbitro Tiro d'acqua giù addirittura Ok Finita Vai 6-1, raga Easy Vediamo adesso di quanto siamo saliti Vediamo un pochettino Grazie Davide Comunque la cosa buona è che Non spendo soldi Ma vinco solo corone Che mi servono Va bene Quindi Siamo secondi, raga Allora, abbiamo anche le maglie Dammi pure il premio Black Panthers Bella Rara, molto bella Allora, punteggio abbiamo 6 Partite cos'è? Partite giocate 2 Forse è quello Partite giocate O partite vinte Non lo so Non riesco a capire PG cos'è? Partite giocate, credo Quindi 2 Si sta Quindi posso giocare all'infinite No, rimaste 18 Quindi se le vinco tutte Se è caso che arrivo primo Vai, raga Rigiochiamo Difficile Gioca subito Vai Vediamo chi è il prossimo Chi è il prossimo 916 Mi sa che non mi è mai capitato uno così forte Grazie, mini football Grazie Ho paura di vedere sta squadra, raga 72 È tutta omogenea Ma quasi tutta all'80 Vabbè, dai, raga Questa Ci proviamo però, dai Come si fa? Vai, numer Vai, numer Vai, numer Tutti scartati Ma che è? Oh mio Dio Boom Sicuro che facciamo gol, eh? Oh mio Dio Raga Sto anche giocando bene, eh Tanto lui un tiro e un gol Un tiro e un gol easy Come sempre, eh? Tanto c'ha C'ha dei giocatori che mi sfondano la porta Quasi, eh? Eccolo 3 2 1 Bravo E su all Ma che rinvio brutto è? Paperone No 3 2 1 Mamma mia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai fenomeno Sì, un fenomeno Centrale però Magari la prossima volta Puoi cambiare traiettoria, eh? Raga, stiamo tenendo Stranamente Parti Fallo Ovviamente a me dal fallo, eh? Sì, sì, guardali, guardali, guardali No Attenzione che questo parte No, 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 no Mamma mia No, 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 no Non farlo tirare Non far Oh mio Dio Traversa? Cosa è stata? Non ho visto Parti No Raga, 900, eh? Raga, sto qui a 900 E sto tenendo C'è 0 a 0 il primo tempo Raga, sto tenendo Due tiri a testa Raga, già un applauso per quello che sto facendo, eh? Vai, 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 vai Fallo Fallo Mamma mia, se riuscivo a passarla al Diego Vai, vai subito No No, no, raga Non farlo tirare assolutamente Traversa Si è entrato con la palle Se io non si posso credere la fortuna di sto qui Guarda, traversa è rimasta lì E davanti alla porta tira Se io boh, raga, io boh Dai, non ci credo, raga Assun Vai, 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 vai Boom È impossibile far gola sto qui È impossibile Sì, sì Diego I falli non esistono per me What? Io comunque vorrei tanto giocare col Pada sto gioco, eh? Mamma mia, che nervoso, raga Che nervoso sto qui Lagga, lagga pure Limone, signore Vabbè, ciao Cioè, hai 300 km orari all'incrocio dei pali Dai, non è giusto comunque Cioè, livello 90 Passa Attenzione, attenzione, attenzione Eh, ovviamente Ovviamente non basta mai nulla Bravo Si messi, 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 messi Orribile sta palla Attenzione, attenzione Il fenomeno, fenomeno, fenomeno E non sono riuscito a fare nulla con sto portiere È impossibile, raga Impossibile Tanto è finita Ultima azione Ci fischierà, eh Vediamo Cioè, è orribile sto tiro di testa comunque È finitissima Cioè, assurdo che è 0-0 il primo tempo con uno che aveva 900 e passa di livello Cioè, assurda sta cosa, eh 916, raga Aveva 200 punti in più di me, Abdul Cioè, follia Hai bisogno di vittorie per rimanere in testa Vuoi tenere questa sconfitta? Vuoi tentare questa sconfitta? Vuoi provare l'ultima partita? Io proverei, raga 50 Voglio provare Gioca subito Non quello di prima 801 Abraham Abraham Ovviamente Sempre 100 livelli di differenza Tanto questo gioco, ovviamente Facilitarsi, no, eh Allora, Egitto 70 È forte, raga Nulla da dire Il portiere è un po' meno forte di prima Però Comunque Si sente la differenza Sifarone, Sifarone, Sifarone Sifarone, mettile in mezzo Che c'è Diego, cosa mi stavi facendo a breve? Un miracolo No, 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 no Ho un dubbio No Qui sono stato scarsissimo Non si posso credere Dai, dai, dai Forza Dai, forza Che questo Mamma mia Fa legno Dai, dai, dai Zoom Ma perché? Dai Pallo Non si posso credere Ma mi vuoi male Maledetto gioco Mandateli contro Cosa fate? C'è, raga Pallo E me la prende e fa gol Sta a vedere Sta a vedere Oh, sta a vedere No Che io, raga Non ho parole Messi Messi Dai Ma perché me la prendono sempre Vai, nome E finalmente Un fallo Assurdo, raga Se è 2-0 Senza senso Se devo stare 2-1 almeno Dribble, dai Vai Dribble Ma il tiro Eh, raga Ma perché mi fa mettere Dribble Io non capisco Voglio tirare con un attaccante Sì, Messi Dai Sta a vedere Gol fra 3-2-1 Mamma mia Bravo Ice Wall Ma tanto Adesso Via 3-0 3-0 3-0 Inutile Gol, raga Ma tanto 71esimo 3-1 Cosa vuoi che faccio? Attenzione 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 3-2 76esimo Si ribalta tutto? Mamma mia Ribalto la scrivania Se vinco Altro che Dai, raga Dai, raga Dai, raga Dai, raga Sì, sì, sì 2-3, raga In meno di quanto In meno di quanto Un minuto Assurdo, raga Assurdo Dai, dobbiamo vincerla No, 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 no No, via Ice Wall Via 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 Mamma mia No, no, no Dribble, dribble, dribble Corri di più Raga, dribble Non corre nulla È una polenta Mamma mia Dobbiamo cambiarlo Corre troppo piano 3-3 pareggio, quindi 3-3 pareggio, raga Ma va bene Meglio che una sconfitta Con sto cammello Qua davanti Abraham Assurda sta partita è stata Quindi, vediamo È andata Partite giocate Sì, partite giocate 3 Ah, quindi È come pareggio, raga Ok Siamo terzi Non male, eh Comunque io la butto lì Magari Nel prossimo video Cerchiamo solo di fare Partite cosine E facciamo una valanga Un'ora di partite Ok Se arriviamo a 5.000 mi piace Potrei pensarci Da me è tutto E ci vediamo Al prossimo video Ciao Outro Ciao 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 Sì Al prossimo episodio